Hello everyone, ciao a tutti Oggi mi stavo annoiando e così cercavo qualcosa di diverso da mettere nel mio canale di youtube ovviamente restando il tema del gaming che sono interessata purtroppo non posso portare nuovi game perché non ho un buon pc e ne ho una ps4 quindi mi limito a cercare altre corsie da percorrere navigando sulla play store ho trovato in un gioco che si chiama Goddess Primal Chaos Action Strategy 3D per Android ma anche per Apple allora vi dico le tecniche del gioco il gioco consiste nel aumentare il livello, il pvp, sconfiggere vari boss world e il combo sono facili da controllare il termine combo viene usato nel gaming come una serie di mosse effettuate in breve tempo abbiamo le battaglie di squadra e le guerre di alleanza nel game abbiamo tre classi la prima è il summoner, l'invocatore la seconda classe è il loreline e la terza è il warrior non ho provato nella seconda o nella terza ps, in rete ho trovato anche questo che se vogliamo scaricare il gioco per pc dobbiamo scaricare un emulatore per Android ovvero il blue stacks e vi lascio qui sotto il link possiamo usare l'out combat oppure possiamo combattere da soli l'out combat serve per i nostri personaggi di interagire da soli nei combattimenti ok, penso di aver detto tutto inizia l'avventura che ci propone il game buona continuazione buona visione e buon divertimento next time see ya buon divertimento 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.